ed eccoci tornati in onda in onda siamo sempre stati in realtà siamo un po' in onda in altro senso probabilmente Carlo, ben ritrovato non siamo mai andati via da qui dopo questo dibattito dopo questo dibattito su Cinema Rivoluzione c'è ancora un po' di casino perché gli ospiti erano tantissimi ma vedo che anche adesso hai un sacco di ospiti sempre tanti ospiti alla mia sinistra Sara Oliver Scardi, il reggae in Italia lo possiamo dire? a Venezia buonasera d'Italia e Alex Boncino ciao Alex che si esibiranno prima del concerto di Boom da Bash bellissima l'interventa dell'intervista del maestro Mr. Robinson che prima ha incontrato i ragazzi che ho raccontato cose molto interessanti io e Carlo ci siamo spesso lamentati che ultimamente le band giovani vengono a raccontare cose non troppo pregne di significati e invece guarda questi ragazzi dal Salento ci hanno proprio sconvolto ma stupiti positivamente non sconvolto certo ma cominciamo da Alex che ci racconta un po' che succede a Venezia e poi ci tuffiamo appunto a capire cos'è sta Venezia cos'è sto reggae a Venezia eccetera eccetera vai Alex sì oggi ritorno al reggae allo Sherwood Festival una data che appunto vede la presenza di Bunda Bash uno dei gruppi sicuramente che più rappresentano il reggae moderno in Italia una data quella di oggi qui allo Sherwood Festival che lancia un festival nel festival perché stiamo parlando del Venice Sunsplash 2013 che si svolgerà all'interno del Venice Sherwood dal 19 luglio al 23 luglio per il secondo anno si svolgerà all'interno del Parco San Giuliano la seconda edizione che è proposta da Sherwood da Rasta Snob da Bonsilome da Soul Food Promotion quest'anno tantissimi gli ospiti partendo dagli ospiti internazionali come Alborosi e Busy Signal ma anche tanto spazio sia al reggae italiano con la presenza di Brusco Lion D Anima Caribe i Sisyphos che quest'anno hanno vinto il contest italiano del Rototum e molto spazio anche al reggae locale nel second stage con le band che apriranno nel pomeriggio e i Sound System che suoneranno dopo il palco principale molti saranno presentati molti nuovi dischi a partire da Sound The System di Alborosi passando per Rise The One di Jasan Bring Back The Vibes di Lion D e anche nella notte del Redentore Ridi Pagliasso di Sir Oliver Scardi nella notte del Redentore che è poi la serata giusta cosa dici? Sì sicuramente il Redentore è una festa molto importante che sono anche i Pink Floyd che sono veramente anche i Pink Floyd adesso vediamo se è serio ci sono diverse cose che ti voglio domandare una è riguardo all'ultimo disco tantissime collaborazioni come funziona? amicizie o come è andata? C'è un po' di tutto conoscenze varie e casuali vecchi amici ex compagni di battaglia abbiamo pensato di inserire un po' di personaggi all'interno del disco per mettere la ciliegina sulla torta di quello che ci sembrava un bel disco quando hai cominciato io lo chiamo Ser perché da ragazzino quando noi lo ascoltavamo lo chiamavamo il Ser e questa cosa mi fa un po' sorridere perché i miei amici che sanno che lo sto intervistando che ormai hanno tutti 40 e rotti anni ridono di questa cosa che naturalmente il tempo è passato per tutti quanti ma quando hai cominciato pensavi che saresti stato 30 anni sui percoscenici a cantare eccetera oppure hai cominciato per gioco? Ma no ho cominciato anche abbastanza seriamente perché io volevo fare il rock e taro ma non trovo il rock e taro sì ho provato a fare il rock e taro ma non ci sono riuscita dopo casualmente ho assistito a dei concerti di reggae molto importanti all'epoca per prima Peter Tosse dopo Bombali a San Siro e mi sono detto voglio fare anch'io questa musica qua quindi il levare ti ha conquistato? sì mi ha conquistato anche se devo dire che all'inizio mi sembrava una cazzata perché è abituato a ascoltare di Purple e Zepp in Sant'Anna Pin Floyd e più ne ha più ne metta sentire questi qua che faceva check e check mi sembrava un po' riduttivo e invece la la funzione magica del reggae sta proprio nell'esibizione dal vivo di un gruppo io credo che solo l'esibizione dal vivo possa trasmettere quello che oltre trasmette un semplice disco io credo che un concerto di reggae sia molto superiore rispetto alla media di altri concerti di altri generi musicali tu dici che dal vivo il reggae vince il reggae è vincente dal vivo anche sul rock anche sul rock delle Zeppelin anche sul rock solo che purtroppo come vediamo nel corso degli anni i concerti sono sempre meno purtroppo la nostra società non investe nell'arte e nello spettacolo investe molto probabilmente in aeree da guerra capisci e di conseguenza eventi musicali ce ne sono sempre meno e va perduta un po' con la cultura del rock della musica dal vivo e certo si va a perdere un po' non in spazi come questo non a Sherwood negli spazi della foresta perché invece noi proprio campiamo di musica dal vivo nel senso che ci piace respirarla e siamo restati tra i pochi che cercano di promuoverla ancora però funziona sempre funziona finché ci sono dei giovani ma questo però naturalmente mi viene aiuto anche il Ralex nelle serate anche quando fate gli spazi sociali dedicati a questo tipo di musica e anche i sound system che poi sono nati in Italia diciamo hanno preso piede non sono nati hanno preso piede comunque negli ultimi 5-6 anni 7-8 anni però le serate sono piene i ragazzi giovani vanno a sentire sì sì sono piene diciamo ci sono da considerare vari aspetti nella reggae music una sicuramente importante che è quella del live però secondo me il reggae è fatto da molteplici spazzettature quindi sicuramente il root reggae quello vero quello diciamo tra virgolette di Bob Marley è importante vederlo live però secondo me appunto c'è anche la cultura del sound system la cultura delle dance hall che sicuramente è un'altra parte importante che lo stesso è da spingere da promuovere sicuramente adesso è un po' difficile portare in Italia dei reggae sia un po' per la non professionalità di molti artisti giamaicani e anche un po' per il periodo che sta vivendo la musica live infatti quest'oggi come molte date del Venice sun splash noi vogliamo proprio metterle a un euro può bastare per promuovere l'importanza di andare a vedere un concerto di vedere la musica live e cercare di renderla più fruibile possibile a tutti ecco sir l'hip hop e abbiamo detto abbiamo detto anche sound system così tu queste cose le facevi in fondo tempo tempo dietro cioè c'era entrava il rap nelle due canzoni è successo insomma cioè sperimentare comunque nel reggae è quasi come si dice una necessità lo faccio ancora oggi perché non mi esibisco solamente dal vivo col gruppo ma faccio anch'io un sound system molto personalizzato in cui canto cose mie o cose di altri perciò è un metodo importante di diffusione della musica quindi ti piace anche questa cosa del sound system bisogna ringraziare sempre i sound system e i dj perché sono loro che promuovono la musica ancora due domande sempre da loro dopo arriva l'ascolto dal vivo ma prima parte tutto dal disjockey sempre e comunque due cose perché una te la chiedo io in realtà una te la chiederà dopo Carlo ed è questa quando tu prima hai detto ascoltavo rock e volevo diventare una rock star ma adesso quando stai a casa che ci dimentico ti ascolti ma io generalmente ascolto di tutto chiaramente ho le mie preferenze o meglio ho i miei tempi di sopportazione posso sopportare un par de ore di heavy metal posso sopportare 20 minuti di latino posso sopportare anche la tre quarti d'ora di jazz va tutto a sopportazione chiaramente se ti mi metti su reggae non mi stufo mai bene benissimo noi abbiamo anche la domanda la domanda che la tre quarti d'ora di jazz ah si ciao tre quarti d'ora di jazz si lo dicevamo abbiamo anche la domanda si allora io volevo anche ricordare che stasera che è la serata Venice Sherwood Festival come giustamente stavate ricordando avete già detto più o meno le date tutto e volevo anche dire che si possono anche acquistare i biglietti su Sherwood.it online perché è tutto online per di più ci sono i fotografi che con il loro pannello fotografico che stasera fanno le fotine perché è l'estate delle fotine e quindi se fate la foto la foto più originale potrete addirittura vincere dei biglietti per il Sunsplash la domanda è in dialetto veneto e io stavo cercando speravo che si dimenticasse perché non lo so parlare molto bene la domanda se ma venne che sia senza fabbriche sarebbe veramente più sana io non so se l'ho detto bene senza fabbriche senza fabbriche sarebbe sempre bene senza lavoratori sarebbe un problema è un problema però è un tema spinoso infatti la domanda sembra stupida noi altri proponemmo da trent'anni basta spianare tutto e costruire solo altre robe quindi non abbiamo una risposta ti metti tutti quei che si lavorano in fabbriche a spianarle e ritirare su tutto che vuol tanto invece di tirare su fabbriche ti tiri su boschi ti tiri su campi beh o cosa cantare insomma infatti io non volevo farle questa domanda ci tengo a precisarlo mi ha obbligato Ivan Grozzi cari però si vede che lui è quello intelligente dei due è quello che ha studiato di più si vede o no? ma non lo so mi sembra abbastanza complici via trido perciò comunque fate fate delle domande del cazzo simpatiche quindi grazie continuate pure a maltrellare che mi sono a vostra disposizione ti ringraziamo moltissimo sì simpatici va bene dai per questo per fortuna ultima cosa che ci devi raccontare siccome è una festa speciale in un festival speciale che sarà il Venice Sun Splash la Notte del Redentore cosa ci prometti che farai? devi lasciarci con una promessa proprio di quelle che ci scuotono cosa farai? i foghi i foghi? eh sì chiaramente suoniamo con tanto di botti d'artificio quindi dovrebbe essere una festa in piena regola insomma chiaramente il repertorio che suono è conosciuto ci divertiremo insomma sì mi spero spero che vengano tanta gente consiglio a tutti portare tanniche di autun perché i musati se grossi così se non sai cosa che sono i musati si tratta di zanzare quei maledetti insettaci marci che non serve a niente perché ormai i ossei sono morti tutti non rimane più e se i musati grossi così ti salta addosso quindi impienive di autun impienive mi raccomando noi siamo felicissimi di aver tenuto qua lo applaudiamo lo ringraziamo e mi raccomando insomma il redentore dacci dentro perché ci aspettiamo una grande serata noi arriviamo preparati ecco l'autun vero? è certo con tanniche come era? serbatoie di autun tanniche di autun vabbè buone serate buon festival buon tutto mi piace queste cose chissà che ne sia sempre di più grande lunga vita musica e a chi che si rompa il cuo per farla grande grazie mille aspettando il Vanish Sun Splash grazie per essere stati con noi grazie davvero grazie anche Bocilom diamo la linea alla regia e poi torniamo in studio si aprirà l'ennesimo capitolo infinito della serata che serata incredibile grazie grazie a tutti grazie a tutti